Allora, vista di Cuggi al balcone di casa. In fondo c'è il mare. Qui sotto c'è la stradina principale, qua vediamo da vicino. Questo è il muro del vicino. Questa è il campo da Rugby. Un po' la strada, Cuggi, Bay Road. Tutti i caffè, i ristoranti. C'è pure l'ambulatorio all'angolo. In questo periodo passano le balene. Qui all'angolo. Adesso vediamo l'appartamento. C'è il balcone. Ecco la sala. I soliti divani dall'Etiopia. Tavolo. Zona cucina. In fondo c'è la stufetta. Ogni tanto si usa, ogni tanto si accende al condizionatore perché fa caldo. Un tempo cambia. Di giorno in giorno. L'ingresso al piano di sotto. Un'attimento. L'angolino. Un'attività. 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 Un'attività al muro. Non grande. Un'attività al piatto. Un'attività. Ogni tanto. Un chat. Un'ottività al piatto giuro. Un'attività al piatto. non ce la faccio sulla strada dentro c'è la piscina e gli acuzzi questa è la chiostrina questa zona è riservata solo chi abita qui quindi è abbastanza tranquilla e sicura si può lasciare la porta aperta quelle sono le mie finestre qui c'è il numero 7 Fuji Bay Road sotto casa c'è il supermercato proprio sotto casa abbiamo la banca col banco messo davanti a casa questa è la via che fa fare qui c'è il supermercato qui c'è il supermercato qui c'è il supermercato qui c'è il petino parmageato il negozino oh mezzo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.